Un vento a trenta gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari, e intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari, seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messe e uscissero le donne, poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Ligirsky. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicine alle finestre. Un giorno sulla prospettiva di Ligirsky, per caso vi incontrai Igor Stravinsky, e gli orinali messi sotto i letti per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione, e gli orinali messi sotto i letti per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione. e studiavamo chiusi in una stanza la luce fioca di candele e lampade a potere, e quando si trattava di parlare aspettavamo sempre con piacere. Il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbredire. e il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbredire. ma 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 Grazie.